Affrontiamo oggi uno dei problemi più spinosi dell'intero applicativo, ovvero le maschere di livello. Come potete vedere Photoshop ci consente di avere non solo un'immagine ma più immagini all'interno di un documento, per cui abbiamo più immagini impilate. Una maschera è semplicemente uno strumento che ci permette di nascondere parte di un livello per vedere il livello sottostante, come se fossero dei fogli impilati uno sopra l'altro e noi andassimo a praticare un foro su uno dei fogli in modo da poter vedere il livello direttamente sottostante. Ora, se è vero che questo può essere fatto semplicemente con gli strumenti di disegno, questa è una tecnica distruttiva. Infatti non è più possibile recuperare le informazioni contenute nella parte che abbiamo cancellato. In questo caso io faccio Command Z e recupero, ma nel caso avessi salvato il file non mi sarebbe possibile recuperare le informazioni. La maschera di livello si attiva, avendo selezionato il livello su cui si vuole attivare, si attiva premendo questo bottone. Come possiamo vedere è stata applicata una maschera. Ci sono anche altri modi per applicare la maschera. Si può ad esempio andare su livello, maschera di livello, mostra tutto. In questo caso abbiamo una maschera di colore bianco. Un'altra cosa che è possibile fare è attivare una maschera nascondi tutto. Come possiamo vedere la nostra immagine è cambiata perché la maschera applicata in questo caso è nera. Come andremo a vedere tra poco, il bianco serve a mostrare le informazioni mentre il nero serve a nasconderle. I grigi che stanno in mezzo servono ad avere una trasparenza sulle informazioni contenute nell'immagine a cui abbiamo applicato la maschera. Una cosa interessante da dire è che l'applicazione della maschera di livello non ha un comando da tastiera assegnato. È possibile però deciderlo, per cui è sufficiente selezionare scelte rapide da tastiera e qui possiamo andare nella sezione dedicata ai livelli. Qui abbiamo maschera di livello mostra tutto, qui è possibile impostare un comando da tastiera personalizzato. La maggior parte dei comandi come il computer ci segnala sono già occupati. Io assegno command opzione P, è arbitrario, lo uso semplicemente perché è libero. Quindi in questo momento io quando andrò a premere alt command P vedrò applicata una maschera bianca. Le maschere possono essere utilizzate con gli strumenti di disegno, quindi con un semplice pennello, avendo una maschera bianca e selezionando un pennello con colore di primo piano nero io posso pitturare e in corrispondenza delle mie pennellate andrò a scoprire l'immagine che sta sotto perché andrò di fatto a cancellare le informazioni presenti nell'immagine su cui sto lavorando. Ma questa è una tecnica non distruttiva per cui le informazioni sono ancora tutte contenute. Io posso in qualunque momento recuperarle anche se ho salvato il file. Questo è il grande vantaggio di lavorare con le maschere. Inoltre posso cambiare idea e andare a rifinire la mia selezione in qualunque momento. Ovviamente una volta che ho selezionato una maschera valgono tutte le regole che sarebbero applicabili a un'immagine. Quasi tutte per la verità. Se io pennello è come se stessi disegnando. Bisogna fare attenzione di aver selezionato la maschera perché se io ho selezionato invece il mio livello e vado a pitturare vedete che sto pitturando sull'immagine. Di nuovo questa è una modifica distruttiva quindi se salvo questa modifica mi rimane così non posso più tornare indietro. Mentre tutto quello che viene fatto sulla maschera è reversibile. Attenzione non è reversibile nel senso che posso tornare indietro all'infinito. È reversibile nel senso che le informazioni contenute nell'immagine e i pixel originari sono ancora presenti. Se io ho fatto una selezione complicatissima e la sbaglio e la salvo sbagliata anche in questo caso le informazioni sono perse. Quindi la maschera non è la panacea per tutti i mali. Altre cose che si possono fare con le maschere è usare i comandi da tastiera per riempire con un colore. Per esempio in questo caso io posso riempire con il nero per cui premo opzione delete riempio l'intera maschera col nero. Io posso premere command delete e riempio l'intera maschera col bianco. Posso premere command i e inverto la selezione. È anche possibile lavorare sulle selezioni ovvero una volta che io ho effettuato una selezione posso andare a riempire col nero la mia selezione oppure invertire la mia selezione. Vediamo ora un esempio pratico. Poniamo di avere queste tre foto che sono state realizzate con il bracketing quindi sono tre esposizioni diverse della stessa scena fatte su un cavalletto. Ovviamente l'esposizione che prediligiamo è questa in quanto la maggior parte della stanza ha un'esposizione corretta in questo scatto tranne la finestra che è palesemente sovraesposta. Se noi andiamo a prendere quest'altra immagine in cui la finestra è corretta la prendiamo e la trasciniamo all'interno di quest'altra finestra e teniamo premuto shift in modo che si allinei automaticamente. Vedete infatti che sono perfettamente sovrapposte. Ora noi potremmo premere command alt p e applicare una maschera vuota potremmo prendere command i e invertire la maschera oppure potremmo premere semplicemente alt delete perché abbiamo impostato il nero come colore di primo piano e quindi riempiamo la maschera col nero in questo modo l'abbiamo nascosto abbiamo nascosto interamente il livello. A questo punto per rivelare solo l'area che ci serve possiamo agire in diversi modi possiamo sicuramente prendere un pennello colore di primo piano bianco e andare a pennellare nell'area che ci interessa ma possiamo anche usare uno strumento di selezione come per esempio il lazzo per cui possiamo prendere il lazzo poligonale fare una selezione e nuovamente andare a premere command delete scusate alt delete per riempire la selezione col nero. Command e alt ovviamente cambiano a seconda del colore di primo piano e di sfondo quindi se li abbiamo invertiti non sarà più uno ma sarà l'altro. Il modo migliore tuttavia di usare questo strumento è sicuramente abbinato alla penna in quanto la penna ci permette di realizzare le selezioni il più precise possibile e cosa più importante ci dà la possibilità di gestire delle curve anche cosa che con gli altri strumenti di selezione è un pochino più complicato. Inoltre questo strumento di selezione salva automaticamente il tracciato di quello che abbiamo fatto. Una volta che abbiamo chiuso il nostro tracciato tasto destro crea selezione la nostra selezione è creata a questo punto non facciamo altro che andare a riempire la nostra selezione con il colore di primo piano, in questo caso nero. Ora come potete vedere i cambiamenti che abbiamo fatto sono visibili sulla nostra maschera. A questo punto se noi volessimo per esempio correggere il pasticcio che abbiamo fatto qui sarebbe sufficiente andare a selezionare quello che abbiamo fatto e cancellarlo. Nel momento in cui vogliamo vedere la selezione che abbiamo fatto io potrei non ricordarmi più dove la maschera è attiva. Se io mi posiziono sopra la maschera tengo premuto alt e clicco visualizzerò solamente la maschera e potrò lavorarci potrò fare delle selezioni, pitturarci sopra, usare tutti gli strumenti di disegno e anche applicare dei filtri perché la maggior parte dei filtri possono essere utilizzati anche sulla maschera. Per tornare alla visualizzazione normale di nuovo tengo premuto alt e clicco sulla maschera. La maschera può essere disattivata. Tenendo premuto il tasto destro si può vedere disattiva maschera di livello ma molto più semplicemente si può tenere premuto shift e cliccare sulla maschera. In questo modo è disattivata. Allo stesso modo tenendo premuto shift e cliccando la riattivo. Un'altra cosa che è stata introdotta nelle più recenti versioni di Photoshop è la possibilità di gestire la precisione del tratto della nostra maschera. Se noi facciamo doppio clic sulla maschera si apre questo pannello. Permette di gestire intanto anche la densità quindi vedete che il nero diventa grigio e il grigio sta nascondendo così siamo al 50%. Il grigio non nasconde completamente il grigio lascia passare solamente il 50% dell'immagine quindi può anche essere un buon compromesso alle volte. Ma ci permette soprattutto adesso la rimettiamo al massimo così ci rendiamo bene conto ci permette soprattutto di gestire i bordi. Se andiamo a vedere tenendo premuto alt e cliccando sulla maschera i bordi fatti sia con lo strumento di selezione lazzo poligonale sia con la bacchetta magica sono troppo netti. Per questo motivo hanno introdotto il comando sfuma. Il comando sfuma, il fader dello sfuma introduce un gradiente sulle linee che noi abbiamo tracciato. Un gradiente che può anche essere molto ampio. Decidiamo noi di quanto. Di solito è sufficiente dare un paio di pixel per non avere più quell'effetto netto che sembra tagliato con la forbice. Questo aiuta a miscelare meglio. Dopodiché in questo caso gli diamo anche una densità intermedia in maniera tale che il tutto risulti più realistico.